Ciao ragazzi, oggi siamo pronti già per il Consiglio, sono del 15-13 estremamente abbastanza in orario, vediamo quasi tutti arrivati eccetto il Presidente e siamo comunque pronti, passo la parola al mio collega. Abbiamo diversi atti da discutere, alcuni secondo noi hanno una piega abbastanza favorevole in linea ai nostri programmi, altri no, come sempre noi andremo sul merito e solo sul merito. La frittata è fatta e oggi ne rispetteremo dei gravi problemi che il PD si autoinfligge per poi distribuirli a cittadini. Siamo in attesa del rino nazionale, il solito rino nazionale da gonfalone, quasi gonfalonieri, usate la battuta ma ci sta bene, comunque siamo pronti per dar battaglia anche oggi. Ci siamo, ce la stiamo mettendo tutta, seguiteci in streaming. Ciao!